È uno studio, Massimo, è uno studio in centro a Treviso Siamo in affitto qua Abbiamo diverse stanze Facciamo diverse cose Bella Andrea, grazie per le cento, bro Io, e cosa aspetti? Cosa aspetti, bro? Persi, mi posso fare una partita con te? Dai, bro, è una vita che non gioco con te Ragazzi, va bene Più tardi vi invito Però, raga, cioè Come faccio io a soddisfare tutte le vostre esigenze? Come faccio? Ditemi Presenta anche su Instagram Grande, bro Frate, se dico di sì a te, devo dire di sì a tutti Ho appena detto di no a Giorgio Hai capito? Cioè, come faccio io? Non mi mettete in queste situazioni, raga Perché poi passo per lo stronzo che non sono Ok? Un po' di regole, un po' di... È il solito, il solito discorso, raga Martedì sera e giovedì sera si gioca assieme Ok? Se la maggior parte delle persone martedì e giovedì sera non possono Riprenderò a fare anche i sabato pomeriggi, va bene? Però ora come ora mi è difficile, raga Mi è veramente difficile Anche su Instagram ti seguo Bene, 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 raga Bene perché sto caricando contenuti molto personali E ci tengo che la mia community li veda tutti Tutti devono vedere i contenuti che ci arriva Gioca di più, fa ancora la palestra e la fregna Ma sei impazzito, fra? Ma sei impazzito? Ricordati sempre che per raggiungere i tuoi obiettivi Sia il sesso è importante Avere la tua soddisfazione nel sesso E nell'approvazione delle donne E sia la palestra è importante Il corpo fisico Il fisico è importantissimo, raga Mantenersi allenati è importantissimo Sia per il cervello Sia per il corpo stesso Per la salute mentale e fisica, raga Quindi, bro Io ho tanti obiettivi E devo stare concentrato Lineare Io no, Massimo Però magari qualcuno in chat, sì Io purtroppo posso giocare solo dalle 16 fino alle 18 Lavoro tutto il giorno, capito, fra? Io non voglio mancare di rispetto a nessuno E che faccio lo spezzato al ristorante Ok, ho capito, ho capito Ho capito Dopo questa ti faccio fare una partita Invito sia Giorgio Invito anche te Ah, ok, ok Stavi scherzando Ok, ok, ok Grande, bro Dai, venite a giocare Facciamo un game Giorgio, vieni dentro Tony, fai partecipa Venite, 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 venite Dai, 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 dai Dai, dai, dai Dai, dai, dai Uno, due, uno, due Dentro, dentro, dentro Hai, ora Abbiamo Hai, ora accessibile Esci rientra Dovrebbe essere accessibile adesso Questo è l'NZ Che mi avete chiesto Fate uno screen Fate uno screen così ce l'avete Fate prima Tyson c'è tanta gente che vuole giocare con me Entra anche tu fra Non mi ricordo Hey man I am big fan Hey brother What's up are you good? Fai partecipa Tyson Adesso entra anche Sexton Poi c'era Giorgio che mi aveva chiesto di giocare Qualcuno si ricorda l'ID di Giorgio? Oh sì Ciao bro come stai? Esaurito Esaurito stai lavorando un sacco bro Eh fra Ah più di a me se non giociamo insieme Eh vabbè capisco fra capisco capisco Che ti devo dire Faccio la spezzola tutti i giorni Non riesco neanche più a collegare la xbox e farti capire Eh ma immagino fra immagino Una vitaccia una vitaccia Ciao Uè 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 Io sto una favola broschi Sto una favola fra Parli un po' in persiano No Cristian Porta pazienza Dimmi Vedi che hai tornato il Grig a fare i buchi Ma a me non piace il Grig C'è stato un momento dove hai fatto i Grig E facevi pure i tuoi buchi Ah vabbè tutti ne abbiamo usato No sai cosa voglio farmi invece? Il DMR Wow Eh Attenzione Ho fatto l'altro giorno Ballicchia un po' Ma è bello Eh ma se non hai le mani di Persio Non lo posso So Qual è la modalità per migliorare su Warzone? Bah Sicuramente né Caldera né Rabbit Devi comprarti il gioco intero E fare i coaching con me E giocare nel multigiocatore per allenarti Poi una volta che sei pronto Ti sposti su Caldera e sul Rabbit Devi fare degli allenamenti Non puoi pensare di migliorare giocando e basta Devi fare degli allenamenti fra Se vuoi avere una crescita Reale e costante Se invece vuoi imparare semplicemente due cose Basta Allora continua a giocare Vedrai che piano piano imparerai qualcosa Ma Se giochi tante ore e vedi che non c'è risultato Vuol dire che devi avere un metodo fra Io il metodo lo do nei miei coaching Sono tutti molto soddisfatti dei miei coaching Maia Maia Invece il car si può usare Raga ho ancora nerfato Chi? Chi? Cosa? Il? Il? Il car Io non ho mai smesso di usarlo Posso nerfarlo quanto vuoi Ma non lo smetterò mai Eh perché c'è stato un momento Dove che era stato nerfatissimo E faceva sotto un tweet market Sì è rimasto così Lo riesce a usare solo per se Ne basta Benissimo È proprio così fra è vero Non vedo nessuno usare il car Andiamo sempre al solito qua sotto Andiamo Tutto sotto C'è già un team Non è vero Oh È brava Viva! Da sopra! Avete il tetto! Avete! Sono sul tetto! E' un attimo! Sono incastrato di sotto io! Lo ho fatto! E' un attimo! Ah, non si è fermo questo! Sei sky! C'era uno... non li sopra! E' un attimo! E' un attimo! No! Da fuori! Da fuori! E' un attimo! Ma che c'è il ripulitore? Ma facciamo... facciamo il drop? Eh sì... Vado a farlo... Vado a farlo qua, al parcheggio, come cazzo si chiama? Si è laica, laica, laica... C'è gente! Sopra di me! Sopra di me! C'è gente! Sopra di me! Eccolo uno! Eeeeeh... ok! Si, non sta giocando! Non sta giocando! Non sta giocando! Confermolo! Eeeh... Dai in palcatura! e mi sta tritando è craccato no andiamo qua non bacio di due e la d'auto te la posso prendere se la faccio eh gente sopra addio sono con te fondo di là one hit one hit one hit one hit guarda che ho sparato per terra e mi ha ucciso abbiamo due a terra e ce n'è uno one hit in centro vado a confermare adesso oh merda te l'hai sotto dai ce l'hai sotto ho una tena qua eh un'altra sta qua uno dietro resta in vita resta in vita resta in vita mi sono suicidato no ci sono anch'io ci sono anch'io ah l'odd imprendibile forse l'odd imprendibile stanno piazzati là nelle casette qua raga no vabbè quel l'odd lì è invivibile no 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 quattro secondi quattro secondi quattro secondi ok perfetto uno è sul tetto qua e sta piazzati eh non ce l'ha fatta vabbè vabbè siamo rientrati è rientrato Kree adesso rientro anch'io va bene bisogna rifare lo doubt bisogna rifare lo doubt uno che attiva questo vai a attivarlo Kree ce la facciamo ce la facciamo tranquilli sono rimasto in vita a culo eh guarda il tuo cazzo ha messo c'è nessun problema ah ok ok prendere oh ma me lo vuoi tirare sto cazzo di Wab oh ma vabbè tirami l'attacco grappolo dove ci sono i ping che vado a prendermi il lodi bene vai 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 ora oh mio dio qui ti che ho fatto raga ma come sono io che ho fatto c'è gente che c'è da dietro ai muri no vabbè è pieno di gente qua lascia vabbè lascia con qua sto cercando di far su due soldi da compro un secondo puoi è qua sopra madonna mi serve la mano cristo vi sto facendo pure le call terra eh veramente io già sparo scorto io prendi quella taglia sopra la prendo io saldi vado allo shop no è qui che cazzo grazie venite a fare guavi venite a fare guavi che avete i soldi vado a farlo io vado a farlo io vieni i soldi vieni i soldi dove la taglia mi hanno mandato questi guavi si sto andando fra sto andando un amico controllo 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 sono uno qua sotto la di me 2 qui control raga control I'm coming back pussy Ormai Matteo la gestisco Mi piace un sacco L'adrenalina è la parte più divertente Quando mi metto in difficoltà Sono la persona più felice Mi metto in difficoltà poi risolvo È la parte più stimolante Madonna non ti ha fatto niente Chiudere Ok vai rientriamo tutti L'odd l'abbiamo già preso tutti Io scendo qui alla tenda Voglio andare a farmi quelli a control Subito Io sono secchinato da una madre Alla immaginare Orco Digimon Lo voglio saccare io da dove? Ah da l'attore L'attore Avevamo messi due a terra Allora si è tonta Merda amico Sono lì con lo breve Ce ne sono due a terra Bello Niente Oh resta tutti Gente sopra Gente sopra sul tetto Saliamo sul tetto di contro Ci sono armi No devo andare a scendere No devo andare a scendere Nella sotto Io Eh bastardo Certo Gas lacrimogeno lanciato E' stato pieno E' pure Diego Rimondonati Rimondonati Uno viene tratto Non c'è nessuno Nessuno Come no Bel Oh Non sono a tendere Che cazzo Quanta gente Dog Dog e non vedi che sono pieni di gente 2 contro 2 ha restato una chiesi ho venuto qua è abbastanza tranquillo che hai peccato peccato no way frate cioè è andato sul mio attacco grappolo fra sul mio attacco grappolo è andato ma io c'è la sfortuna proprio sono andato io fuori si è andato sul mio attacco grappolo comunque sono lentissimo oggi oggi mi sento veramente lento raga ci credete ma tanto lento oggi mi sento proprio lento lento arrivo datemi un secondo arrivo subito poi abbiamo avviato il messaggio che è andato che è andato va bene ragazzuoli in chat ci vuole una bella challenge per il persi lo sapete che per svegliare il persi bisogna bisogna dargli una challenge c'è poco da fare una maa non ci vuole più uono dalla testa di ieri ero stanchissimo ma ho visto qualcuno allora siamo pronti ciao rosario allora questo game qui facciamo i buchi andiamo subito sotto ai bagni sentiamo 50 di team 5 sub è detta che è detta 50 ma facciamo così in questo facciamo facciamo 40 che il più win e io regalo 4 sub 4 che su 4 perché stu 4 pro dai dai ci sono i pacchetti che vanno da 1 a 5 5 10 qua non puoi regalarne 4 devi prendere singolarmente armi scusami abbiamo già lo di soldi qua mi vanno via e di riforma il partito di prima eh le ho lasciati le ho lasciati mi sparano oi qui è l'altra 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 atto granata partita no che è l'olingo trovare io tei ce l'ho ops no solo da out l'out oh livello 3 occhio ti ha reso una cazzola si è reso perfetto 3 su tetto 1 uno di tetto sparalo invece di chiamarlo dentro troppi di per qui law sentire po sp sc poll mo cat ne mac è immortale, è immortale, è immortale, cazzo no? vabbas arrivo mi hanno dato del camper ah raga ma se faccio l'oddy? mi ho dei soldi se 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 io vorrei prendermi l'oddy qua soldi ma fatene un altro fatene un altro loadout prima fatene un altro loadout venite soldi eeeh 3 loddy ho pure a cassamoni ma siete bruciati voi quanti ne avete presi? quindi niente vabbè, 3 loddy eh i soldi lo lasciamo ok ok vabbè non fa niente dai raga dove andiamo? io la cassamoni sopra dai 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 Adesso torno e ti mangio la testa! Ah, della Mary, di Fran, che c'è? Cosa, cosa? Motherfuck you! Oh, restate in vita, restate in vita! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Datemi audio, datemi audio! Claudio! Oh! Venito qui! Che scime! Nooo! Vai, coming back, tu te ho giro! Ehi, che sbordo! Ogni angolo! Che sbordo, amore! No, Fran, niente uno è dentro, vedi? L'ho tua testa! L'ho tua testa! Allora! ma te c'ho talmente tanta gente attorno il problema se non facciamo un WP capito perché non ci possono utilizzare dove sono nemici ok ok oh mio dio ragazzi è vicino c'è un soldato nemico no dietro mannaia la puttana che sei arrestato cazzo perché non presto perché non presto perché non presto decideri cazzo ombre puto accetto de mierda sono concentratissimo bro da minaccia c'è c'è da lì arriva questo tetto che è due è entrato è entrato è entrato mi servono a V mi servono a V mi servono a V venite giù venite giù saldi 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 ce li ho io ok perfetto è arrivato un cadavere morto ok a posto no aiutatevi non camperare lottifiglie di troia non camperare lottifiglie di troia lascia la puttana non capisco niente dove stanno ne devo andare da sto buco mamma mia no che cazzo ce ne stanno altri ce ne stanno altri non è cazzo se io non 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 Vivo? Guarda lì! Solo in due, solo in due! Boom boom boom! Ragazzi devo rinascere eh! Oh! 30 secondi Cree! 30 secondi Cree! Stanno appoggiati qua sopra! Bravo! Ah io non entro, è bene! Bravissimo, bravissimo! Ti piace! Oh! Vado all'ottima, vado all'ottima, vado all'ottima, vado all'ottima, vado all'ottima! Gente con noi l'hot out, gente con noi l'hot out! Te lo sconsiglio, te lo sconsiglio! Brate io sono persa, non ho paura di niente! Ah ok! Eh guarda sempre io ci ho vincolato! Suntana oh! Sempre io ci ho vincolato! Dio mio fratello l'hot out! No merda! Non c'è niente pronto! Stes derece, vuoi luo! Che, Cabinet! Stes derece! Asha che renderà nua? Sono assanche divide Vendure colpito Ah, ho perso Occhio alla casa dello shop, io sono in due sopra No, il t'incastrare Madonna mia Fuck Vai, Checco, grazie per le mille Grazie per le mille, Checco Poi dicono, perché il pad ci dura due mesi a questo? Mamma mia No, ma gli sta durando adesso le scaff Ma gli sta durando lo scaff Già, già sta durando più del solido Adesso, guarda, mi sa che prossima settimana ne compro un'altra Sì, ma cazzo, ma dovrebbero sponsorizzarmi però, cioè, figa Sai quanti gliene venderei al giorno, porca buttana Tanto la gente, ormai sto facendo pubblicità gratis Prende di più i soldi per i joystick che per mangiare Eh, adesso non esageriamo Non esageriamo No, si tratta bene, perché siamo già fuori tutte le sere Eh sì, adesso, addio caro Non manco neanche Skype a fa spesa, sta settimana, addio caro Se ti mando lo screen nel mio conto corrente prendi paura, fra Sto aspettando di mettere lo stipendio domani, fratello Sono... l'ho rovinato Se ti mando lo screen nel mio conto corrente, mi regali tu 5 sub, fra Siamo sicuri? Vabbè, te le mando, solo perché siamo amici te le mando Aspetta, no Aspetta, no Solo perché siamo amici, fra, ti mando il mio conto corrente Ti faccio vedere adesso Sei pronto? E poi mi dici Dove sei o qua, Cristian? Dove sei o qua? Tac Cioè, questo è il primo Questo è il primo Ok E questo è il secondo Poi mi dici tu quale ti fa più paura Dei due Vai Penso che sia il secondo quello che fa più paura Ti caga più? No, non ti caga più Cosa è una settima? Cosa è? Fai il conto di eseggiorni Non è una cosa che tra me è perci Persi, come in più stazione mira, assistita che cos'hai? Eh, standard Quanto ti dura un pad di norma? Allora, gli elite mi duravano tre mesi Tre mesi, proprio Tre mesi, fra In un anno ne ho cambiati tipo 5 o 6 Quando ho cominciato a prendere lo scaf Lo scaf mi è durato un po' Mi è durato tipo 6 mesi è il primo Questo qui ce l'ho da Quanti mesi saranno passati, bro? Non lo so, non lo so Però sì, stanno durando molto di più questi Dai, 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 muoversi, sono già qua io Soldi allo shop e te Arrivo Confermare, confermare, quello destra Tutti sotto, tutti sotto Ho visto esplodere una granata in culo proprio Ma il loadout? Perché non lo vedo ancora? Fatto Ma appunto, diciamo, ma il loadout ancora non c'è? Oh mio Dio, sei scarsissimo Oh, madonna, frago, quanto sia schifo Tuoi qua? minchia beccetto siamo campanati in un modo brutale wow sei il mio idolo grazie bro la cassa moni la butto ne ho bisogno vado su a fare i buchi e lascio soldi qua e vieni prendere soldi vai a fare un value a per piacere qui con la donna per favore fondo tipo b non l'ho visto entra in sto cazzo di bagno non l'ho visto 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 devo ancora morire una volta se non sbaglio non l'ho visto guardate il diastra qua si è qualche piss in più quello è morto uno è giù persi persi ce n'è una a terra ce n'è una a terra non è morto c'è una a terra o più deve restare è morto c'è gente vicino al perimetro di qui qua andrea perchè siamo così divisi siamo andati a lodi andrea sto a una favola qui dentro fra c'è l'aria condizionata sto bene che devo fare velocità della luce fra adesso vado a prendermi il lodi avevamo soldi per fare wav adesso se rientro c'ho 5 e 3 ok vado a prendere il lodi e arrivo subito c'è c'è troppa e c'è interno c'è c'è troppa e c'è interno c'è troppa e c'è interno andata andata matcha tutto 2 dove stava? penso io grazie potresti anche sciopare un bell'oddy no idea gridi se hai sciolato le armi no centro da prea pick up guardate da quando prendi il pesce il meno porta rispetto ok va la brava qua Adesso torno Ma il cazzo è un Fennec quello con cui lì nella città Non lo so fra Restate in vita, resta in vita bro Questo quad dove te ne vai 20 secondi frate A farti vedere da tutta la mappa vai 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 Apri i casse qua sinistra E togli i secondi E niente E niente Questo dorme Questo dorme porco due Senza piastra Brazza di botta a pedali Annaccia la miseria Si vede che non giochi con me da tanto tempo Dio Eh fra Cosa fra Cosa Ti licenzio Chiamo Chiamo il tuo cazzo di titolare E gli dico di licenziarti Dio Maledizione Sto diventato una pippa Sei una pippa Sei sempre stato una pippa Adesso c'è ancora più una pippa Cazzo Ma cos'è? Allora Che devo fare? Che devo fare con voi? Che devo fare? Mi dite che devo fare? Cioè è possibile tre partite E meno una win Cioè Siete pure tappo Che cazzo Ogni? Sempre Solito Anzi Se lo ti dico Sotto Adesso Dopo te le faccio vedere Antonio Sotto Cristo Cristo No 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 Contro La pena Degenda No, non ne credo, non ne credo, non ne credo, non ne credo, quattro persone a terra e neanche la kill, fra. Attenzione, Tyson, con il silenzio di tomba, si avvicina, pronto a fare i suoi kill, non sa dove andare, sono tutti sopra, non ci capisce niente, spreca il suo silenzio di tomba, signori. Madonna, 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 quanti siete? Attenzione, Cristian Zuffi, l'unico in vita, questa partita è cominciata, direi, malissimo, malissimo, ma non c'è nessun problema, la resti riprende. Va torta in schei, va torta in schei, 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 ciao, pasti, schei. Mamma mia, schiantato, bravo. Sto cadendo di testa. Attenzione, ci prova. Che pensi mi? Eh. Hai messo i soldi? No, fatto finta. Sto cadendo. Sto cadendo. Sto cadendo, sto cadendo. Eeeh ma è impugnata a porti ora Ti vengono a mangiare Dai fra dai fra ma che la minchia fai a sbagliato qua Due lotti Ma non va un cazzo in alto sto robo Ma non va un cazzo in alto 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 No Eeeh ma non va un cazzo in alto Io ho innavato del grigio non ci sto fare niente Non ci posso fare niente Ma non riusciva a fare un merda di qualche porco digimon Ma non va un cazzo in alto Ma non va un cazzo in alto Ma non va un cazzo in alto in serio questo è un fantasma in serio cosa scusa che merda io ma si è preso il pesce fra e più pesce di quello da me i soldi che si fa questi sky di ovard e ovard e ovard e o sperduto porco 2 è un'ora che me lo chiedi fammi finire il game te lo faccio vedere silenzio ma il crick quanti anni non lo vedi di una lì a lì a lì a lì a lì di dietro fa paura il video fa fa paura guarda guarda i buchi guarda a terra a terra devi fare sugli avversari ok è il mio momento ora non morirò io dico qui lo dico mi piace mi piace è tornato può vivere il person mi sento mi sento mi sento pericoloso ci stanno non vedo ah dove sta andando quello è andato là dietro stai facendo il giro sul sereno? si si spara a me no way bro io sei fortunato lo sai vabbè mio dio fra ho preso pesce fra ho preso pesce partita di merda 7 kill apri ste casse che fai per scorrere il tempo 15k dalla nave dalla nave è venuto a bruciarvi vai dietro al muretto adesso con due fai le muretto oh dove sta morto mi fra il cazzo va qua va bene eh non posso finire no no way bro ora tenete no 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 ah ah non ci fate con le mtc mamma mia la puttana le mtc è come i pack dog ah ah non ci fate con le mtc ma mia la puttana le mtc è come il pack dog da persi come se la canta ah ma si qua dentro Bene sarei grazie dovessiamo pure a me eh dalle finestre di solite di смотрите di control dai 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 risalze risalze per dio io ci stavo provando ad andare mi stanno uscellando fra Vai 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 devi essere convinto devi essere Arrivo No guarda lui Oh no no Michele Ottansord due l'rpc Si se cuore la mama seconda C'è un po' di fiori Stando 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 E Sexton cosa sta facendo in tutto questo? Guarda questo dove stava Sexton vai al res, vai al res, vai al res Ce la faccio 1v2 Stai senza piastra, dove vai? Apri ste casse Per Dio Un secondo di audio, porco di perchio Frate devi prenderti Ce l'hai davanti, ce l'hai davanti E niente Lui esce sull'emico che ha già la mira puntata Questo è quello che ha imparato in tre anni che guarda il persian 3 anni che guarda il persian Un anno e mezzo da supporter Non ha capito un cazzo Oddio La porca Tutto ciò che ha fatto otto chino Arriva subito Fai schifo, vai Grazie Anche io ti voglio bene un sacco fra Però fai schifo lo stesso Grazie La verità, io devo essere realista Non posso prendermi per il culo Io con me stesso sono molto cattivo quando sbaglio Tu devi essere cattivissimo con te stesso Hai capito? Cazzo Sì, sì, sì Questo è un insegnamento di vita fra Panne Merda amico Ma perché mi taggano in questi gruppi di merda dove si scambiano foto? Non mi frega niente a me di queste robe Perciò con me ci muoviamo? vogliamo fare una win o cazzeggiamo? com'è qua? allora il set della marco tiè ho fatto vedere 158 volte sta cazzo di live fatelo screen screen 3 2 1 screen 3 2 1 screen screen un altro screen e let's go salvare screen 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 adesso mi diranno no frano non ho fatto in tempo fare lo screen puoi farmela rivedere? screen? screen 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 oh ma c'è io non ho capito tutte queste partite senza vincere dai dai sono per piacere mai visto con chi stiamo giocando porco due dai 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 c'è Tony io posso dimmi dare cricket? ah no raga graetemi il cricket mi fa paura cricket no il cricket scemo si sono tre con la vita raga poi dopo ci sono tre oh non mi prenderà pugni terra ok bene ok bello scusa scusa scemo di merda di scatenato abbiamo i soldi quasi mai c'abbiamo quali sono divini giovani giovani giù questo è il mio game lo dico ora ha il primo nemico della spella ora metto l'ho di anno no dietro figlio che buona madre niente da dietro l'ho fatto l'ho fatto tutto il bulking qua Secondo te è una buona idea pusharli così per potenza? Sì, porta lì via uno alla volta uno di sé si, 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 sono a coperti ho uno di sé a coperti ho pulito garanzia bellissima, bellissima gol arrivano uno fuori penso io penso il ballon abbiamo l'uaba qua sono lì faccio faccio cosa cosa perché sei così maleducato amico rosario caccia sti soldi porco due fammi sta challenge tre ore che dico qualcuno faccia una challenge attenzione attenzione tre secondi per far rinascere il persian sexton ciao gioia dove stai fra abbassati pesciolino ma dai ma che cazzo ti fate ancora là dove sono? dove sono? pinga pinga che lo vada di su pinga che bella sangue pinga che ci pensa però ho pingato fra al bozzone quello grande vabbè 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 concentrarmi concentrarmi fatemi fare spicci fatemi fare sordi che non c'ho una lira namo vabbè 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 sto arrivando sto arrivando sto casatissimo arrivo camper di merda scudo e pompa raga scudo e pompa scudo e pompa raga no merda continuate ad andarci mi raccomando mi raccomando continuate ad andarci che cazzo ha visto questo eh frate siamo morti in due là ma hai detto scudo e pompa scudo scudo oh no amico amico hdr wow wow fai 15 kill solo cecco e pugni ok e tu cosa fai faccio solo 15 kill col cecchino e tu cosa fai se io faccio 15 kill col cecchino mamma mia mamma mia tyson mamma mia tyson vabbè ma mi sembra scorretto però mi sembra scorretto mi sembra scorretto mi fate prendere l'oddy grazie frate se ti facevo dovevi solo spegnere niente non riesco a rientrare regaio non ce la faccio eh no non ce la faccio rientrare io non ce la faccio ci sono i saldi compra un loadout dai da tutti i morti non ce la faccio io muoio potete venire via a prendere le mie armi ciao queste due armi non è salito dalla puna ora proveranno ora proveranno davanti a te permettere mai di usare il mio card bro non si fa dai una semplice e sei nelle mani della tua squadra 20 kill personale più 25 divise tra gli amici tra gli altri 1200 stelle ok su caldero o su redbeard attenzione sexton 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 due nabbi sotto di lui lui è più nabbo sexton è nabbissimo attenzione si butta si schianta che scarcia aiuta che razza di botta a pedali di merda se ne persiano rientra in game riprende lo d'auto li sparano già è incredibile ma non lo lasciano in pace mi hai rotto il cazzo mi hai rotto il cazzo che culo mi sono venuto mi sono venuto basta silenzio di tomba si è messo pure per farsene a kill ho fitto di merda quanto l'ho sempre odiato ma va a cagare il bombardamento ecco guarda me lo dico i profondi dita morti oddio 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 schiaffi cazzo ridi stiamo facendo figli di merda posso fare uccide sexton per piacere non devi dare lavoro è l'unica è l'unica opportunità per fare bene oggi in questione perché non vai al lavoro no ma vedi che zitto zitto di che a partita sto facendo più di cinque kill quindi abbiate rispetto per una persona che ha giocato non giocato a due pezzo dico fino a prova contraria le faccio cinque kill fino a prova contraria pure oltre al danno pure alla beffa alla fine siamo anche fortunati capito ma certo mi chiamo tyson ford ciao Abbiamo l'armamento Ma perché non cambi direttamente il gioco, bravo? Il giocatore è bello Il gioco è negato Ma è me divento non chiudete il team non chiudete il team non chiudete il team cazamoni 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 Ragazzi state avvacendo Morco 2 Non li posso vedere Aspetta 8, coming back Guarda tu l'entrame, hanno sparato Guarda tu l'entrame, hanno sparato Guarda tu l'entrame Guarda tu l'entrame Guarda tu l'entrame Adesso giuro che il cecchino non lo fa usare oggi Dopo questa partita metto via il cecchino mi è più peu didale andremo. Stiamo nella zona Guarda la guerra Uno ha affatto a terra, ed uno che scappa E dai LOL LOL Massimo a lefta qui Ah, voilà, c'è del log, sì, è sempre le cose più simpatiche. Oh, ma c'era il tuo nome dietro, è che già ero un cammino, Drio, perché quelli da là non li sparano. Oh, guarda, c'è una mira che fa schifo, ma comunque credo abbiano cambiato qualcosa, sta iniziando, l'operatore che si ferma e quant'altro, non ha cambiato qualcosa. Ah, va cagato. Ah, va lì, K, ecco qua, non l'ho detto, qua. Ah, va cagato. Ah, va cagato. Ah, scappa, scappa, scappa. Oh, dì. Oh, dì. Ma la scombona. Sono scombone. Oh, dì. Oh! Oh! Oh, dì! la gara incastrato è una casa grande pronto dove sei adesso caccio subito una persona e tu entri no no so già a chi devo sbattere fuori Alessandro non ti preoccupare ok allora magari quello che ci rimane più male fai io sono stato tranquillo quando entro adesso lo caccio subito senza dirgli niente va bene perfetto grande ciao ok dove va Alessandro ho solo eseguito quello che mi hanno detto senza rimorso senza colpa per tutti voi che state guardando sappiate che questo è solo affetto adesso mi faccio il cric no 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 mi scomunico ti voglio bene Tony sto scherzando è che alle 5 e mezza doveva arrivare Alessandro sei arrivato mo oh ti ho fatto giocare un'ora e mezza fra sei l'unico supporter che ha giocato un'ora e mezza con me oggi pomeriggio eh comunque no dai stavo scherzando adesso è molto presentati con un loadout almeno decente e ti fai altri 5 minuti senza pietà senza pietà Alessandro dov'è dov'è io non lo vedo l'hai detto è arrivato eccolo eccolo signorino Crissano da quanto tempo beh quanto tempo il buon vecchio ore ho liberato adesso dai dai parenti Crissano perfetto vuoi capire la rottura di coglioni? da stamattina che erano le dieci e mezza? le undici forse? ma hai parenti di chi? no i genitori della mia compagna detta anche la mia futura moglie detta anche la mia detta anche la madre la mia futura madre e la ah madonna mi si sta veramente mi si sta rizzando tutto il pelo quello di la schiena ma quale? ma quale? la cresta di gallo sotto le palle o? la cresta del gallo sotto le palle è terribile tiga lo split andai ma fra ma era per far ridere noi abbiamo riso se te l'hai pigliato male non è colpa mia ti sta lamentando l'obiettivo raggiunto no sta dicendo ma almeno un saluto non ti ho salutato vuoi dire qualcosa Ari a questo ragazzo si chiama Anthony Tarantino si si no guarda era stata la mia idea io gli ho detto di fare così vedi quello che ha più voglia di giocare con te e sbattilo fuori perché è quello che ne soffrirà di più esatto questa era una indicazione è stato fatto semplicemente quello che mi è stato detto questo serviva solo per dimostrare gli amici sinceri il vero attaccamento a Esan insomma quindi comunque sarei rivalutato grazie è stata esaustiva la tua risposta no è stata la tua solita risposta di merda ci sta però ci sta ci sta mi piace la community va bene per loro community community arrivo piano bravo finito anche l'acqua raga annaccio no mi faccio la partita anche nella spada adesso oh no amico ci è assalto l'NZ cosa mangi di buono questa sera figa qui non manca mai era cattiva questa raga questa era cattivissima pensa se mi sta guardando tipo una madre o qualcuno una madre di un amico ora che ti sei fatto crescere la barbetta puoi capire al meglio cosa significa e adesso fino a prima fino a prima non ero consapevole esatto fino a prima non ero consapevole allora eri leggermente unificato che io a casa del calafreschi ciao ciao Tony un bacione Fran ciao Tony Tony quella Tony Chef Tony casa di Pablo carello portato oh dietro di me qua dietro attaccato uno fermato guarda un altro bravo ok ho la taglia che c'è vicina per la destra guarda un altro Cosa? 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 Non ce ne stanno! Qua dentro Troviamo il locale Oh, difficile Due qua dentro Nel pallone Continuando Poi chi torna il raga C'è un attimo Qui è più di ora No D'accordo 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 Sono il più forte di tutti Andate a casa Meno male che non stavo ascoltando Va bene Era una cosa Giusto da dire Non farà nulla di male Amper da merda Stai zitto Stai prendendo il tuo Ok Stai un ingresso al Gulag qua Sta all'ingresso Dalla mia parte Autoress Perché ce ne stanno Qualcuno Qualcuno Ma l'hai già preso Qualcuno Si L'hai già preso tutti Porco Due Qua 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. la gente qua è la casa di pieni soldi tiktoker di stu cazz la gente qua è grande là vado a prendermi l'altro lottout allora no 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 stanno pushando stanno pushando me ce n'è uno camperato tra le fratte è stato scoperto è stato scoperto il tuo compagno ha perso è stato scoperto è stato scoperto Ma com'è? E se volete RG? No, questa partita qua no, restatelo Dopo, dopo Vado a fare il contratto Vado a fare il contratto Vado a fare il VSA Ha crashato il Veneziano Ma è crashato Dai però, non ti puoi bloccare ogni volta Carmine, sono con Ana la motosega che è un amico mio Tyson e il Veneziano, ma il Veneziano ha crashato mo' Un po' di soldi, riusciamo a fare le balle per me Ma c'era uno eh Andiamo Un po' di soldi Un po' di soldi Un po' di soldi Oh 100 di fronte a me Un po' di soldi Un po' di soldi Qua sopra Continuate a sparare, faccio il giro io Micro E in la fronte Un po' di soldi Un po' di soldi I garcono Un po' di soldi Un po' di soldi Un po' di soldi guardate c'è uno sopra non mi lascia qui sopra qui 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 vai sopra vai sopra vai sopra non c'è nessuno? frate si vai su vai su c'è ok 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 l'ho visto l'ho visto che sappi un garancione? no 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 di brutto a me qua però non c'è più uno mi è sceso? sceso no qua non c'è atto uno mi ha tirato una granata non so da dove ho un altro da me da me ce ne sono due ce ne sono due mi sono dovuto buttare giù uno l'ho ucciso è confermato guardate sto salendo dammi l'altro bello i love you i love you veramente maricon c'è uno shop qui c'è uno shop riga riga ok qua saldi guavì punizioni assalto ah c'è da il cadavere aspetta qua 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 c'è uno proprio c'ho cazzo a muni c'ho cazzo a muni eh non sai ma non sai dai dito che non c'ho più le non c'ho più le stimmi a eh a me non serve fate guavì è fatto guavì è fatto vuoi fare un bombardino? mandamelo sto guavì mandamelo aspetta anche all'estero non l'uso è l'uso bellissimo è un anno un anno un anno è un anno è è è Sì. manca uno, ne manca uno andiamo via qua abbiamo un euro bravo sono 40 persone ancora in vita la lobby è buonissima, dai guardalo, uno così, troppo alto il carrello uno è dentro ando sopra di me andiamo uno a terra sopra e l'altro è partito da dietro andiamo 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 gg bro gg è la prima volta qualcuno mi ha fatto lo stesso trick che faccio io wow erano 40 giocatori fino a due secondi fa ciao canard ac andiamo 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 in andiamo at Io sono tutti trititi, io sono tutti trititi Vai, 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 vai Ok, lo sento a eliminare Interno Andate qua, giallo Non ho incontrato io, eh? One shot, one shot, Ale Non c'è due, non c'è due C'era lo specialista dentro, regà C'era lo specialista dentro Uno di vita, uno di vita Uno di vita, fra Uno di vita Uno di vita, fra Gli ho fatto uno scoop Con il cecchino, uno di vita è rimasto Io non ho parole, guarda Non ho parole Non ho parole Ah... Guarda un signore Scrasciato tutto Vabbè Non vedi, GG Peccato Vedessi la scena, ho preso loadout, messo in pallato il PC e mi si riaviato da solo Ma è bello che alla fine Quando tiri sempre quella cazza di cassa Quella lì che ti dà Ti dà rifornimento La maggior parte delle volte In endgame c'è sempre lo specialista Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma siete tutti impazziti per la salcicia? Grazie a tutti. 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 No. 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 asia Oh mio Dio, gli ho spesso il cervello, bravo! Oh mio Dio, bravo! Oh mio Dio, bravo! Ma che cazzo è successo? Oh mio Dio, bravo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Venga! Oh mio Dio! Oh mio Dio, bravo! Venga ragazzi ci siete in chat, siete vivi? Sotto sotto sotto, un po' di condivisioni, un po' di like, madonna è pieno di gente ragazzi! Tutti dentro d'acca qui! Dimano i mali sogni, rimano dal piano sotto anch'io! sono anch'io i lunghi verso il cane oh quanto accoglie gente uno è sulla torre uno sulla torre uno dentro da me qua uno fa comunque c'è ancora quello sulla torre c'è ancora quello sulla torre ma c'è gente c'è gente si è lì nascorso quello nella torre quello nella torre c'è una 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 torre non riesco a capire dove sono rega mi sembra di averne questa qua sopra il nodo è libero stanno in open, 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 in open a destra ha lo d'out, c'è lo d'out ci penso io, ci penso io, ci penso io qua lì eh, non lo vedo oh raga, stanno qui, stanno qui, stanno qui, stanno qui padonna, sto cazzo di ricognitore da battaglia di merda chris, hanno dietro di te? eh, stanno venendo su, eh mi sparano da sopra? si sparano da là ci vedo qua, eh grande, Harry grande, bro inizia lo sconto grazie per le condivisioni e per i like, ragazzi super gentili, grazie Giuseppe, grazie Carmine, Manuel Carmine ancora, Luca, Giovanni, Pietro, Marco, Bruno, Mattia, Pietro eh, Martina, Giovanni, Miroslav, Terry grazie a tutti, raga questo qua è quello lì che mi ha ucciso anche fuori ah, siamo morti tutti, no way, bro io, io comunque, raga, devo dire la verità, ho fame tra un po' mi sa che vado a mangiare gente, 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 gente grazie sinistra uno, sinistra uno in basso sinistra i passi sono in basso sinistra si a prendere l'elicoptero, dici? sto fight qua non serve a niente, bravi sto fight qua non serve a niente no, 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 piuttosto, sai cosa fai? ti prendi sto contrattino qua pigliati, pigliati sto, ascoltami a me pigliati sto contratto che hai le spalle ascoltami ti pigli sto, ma pigliati sto contratto alle spalle porco ma piglialo dio poi prendi quel cazzo di aereo e vattene ma non è importante, almeno ti allontani Cristo, c'è un team fort potentissimo di là Cristo, mi fai salire sangue al cervello porco due o ti è vedi, vedi, sta consigliere merda mori mori cazzo, mori famose sto rabbit che poi stacco che c'ho fame mannaccia la miseria tre ore, aggiornamento playlist che è successo, fratello? ci siete, eh? ci metto mezz'ora a decollare, mezz'ora vabbè, è importante che sei morto mamma mia, comunque il tuo ZRG, fratello, da popo soddisfazione a che livello ce l'hai, fratello? ma che ne so, fratello, adesso te lo dico 23 eh, fratello vabbè, l'ho detto, tanto a quei tempi che stanno a mezz'ora faceva il tuo caso, perchè è un po' più veloce dell'H10 è come il trading, è brutto da vedere, è brutto da tirare su, ma è devastante in realtà ne ho fatte di molto più arroganti è che il modo in cui è stata fatta è stato tanto bello sì, 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 era tanto cattiva uno, due, tre, bam schiaffo in the face, bro mi ho spento la faccia, brother Re Birtino e poi tutti a fare le pappe io stasera non ci sono, ragazzi alla fine, anche questa volta la barra della donation non è stata riempita io le challenge della community ve le metto solo per darvi la possibilità, insomma di guadagnarvi quello che volete ci sta, ci sta, è bellissimo però non l'abbiamo raggiunto quindi, quindi niente, stasera stasera stacco, io adesso stacco, vado a mangiare e poi non torno e ci rivediamo, ci rivediamo domani con una bella sessione anche domani domani facciamo belli spinti domani a pranzo con Pergiano? sì, bro mi ultima settimana di lavoro da domani dopo relax per una settimana ci vedremo solo in live bene, mi fa piacere mi fa un sacco piacere ciao bro, buona fomenica ciao Barber mi piace come scrivi Barber sempre bagni 20 bombe andiamo quasi in lodi vado già verso la casa, venite con me andiamo verso di là che ci diamo il contratto vabbè, ci abbiamo, ci diamo il contratto vabbè, andiamo verso di là ok, ci abbiamo la taglia al culo culo su l'elicottero, sicuro voglio più guardarlo guarda, ci ha in seguito guardate, guardate guardate Vado la casetta io Il finestra, il finestra Volevo, volevo fuori Arriva un altro bro, arriva un altro Quanto entro Kree? Oh stanno campionando lì L'hai ucciso Mr. Zap Ho visto, ho visto Chiudi quella taglia Sopra di te Sopra di te Non è stato qualche altro Bisogna eliminare GG Restate in vita, restate in vita, restate in vita Tyson, 9000 Sopra di te 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 Davanti a me Gliel'ho rubati Ho fatto doppio loadout Oh dai dai, spara quelli Ale Chiudi lì, chiudi lì, che sono pericolosi quelli Non si affacerà mai da là Non si feina E' hit ali Anche Moment Ma Molto Yanni restate in vita, restate in vita, restate in vita, restate in vita fate un paio di kill, aprite casse che rientro subito, prendo l'od mi sono fermato perché ce li ho qua se pigli i contratti, apri casse, togli tempo Ale io ho capito, qua è una fratella, non c'è un cazzo sul tappo, è quasi da via, non so, non mi vede va bene, sia prendibile o ce l'ho di qua? io mo scendo lo riprendo andiamo, andiamo, non hai paura, Ale coprici, stanno dentro la casetta, si c'è gente ma non è vero, ma non è vero, non è vero, non è vero, non è vero quanto c'ha di connessione questo? 54 di ping contro il mio 22, ma che cazzo vuol dire? mi ha disintegrato, Fran, oh guarda che cazzo wow, Fran, attenzione che giù c'hai rientrato? e l'hai inquietato a mare va sempre dentro ti a casetta uno sotto Ale e uno sopra il tetto Dove sono? Dove sono ste venti persone? Dove c'è il mio grappolo pieno Poi anche sul tetto è pieno C'ho fatto un po' di cose, pure un loading ci può servire UAB alleato in volo, bombardamento di precisione alleati Tutto apri Non c'è il bombi a questi, che ce l'hai? Che ce l'ho? No, no, quelli del bocciano a lanciare il bombi mi hanno rotto il cazzo Bombi è tirato, bombi è tirato Lancia via, mi hanno affrontato a te i gri Parano Porco due Sta correndo via? Mi devo piastrare? Cazzo, regà, non trovo nessuno Eh, un ultimo da me Uh, nice, bro Ci piedi, mi ha sparato Dai dietro, dai, 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 dietro Ah, quanti cazzo ne sono? Ah, è arrivato sto cretino Bravale, bravale, bravissimo Lodi Eh, io ve l'avevo bussato uno in più Eh, sto andando a prenderlo Grazie Ale Ti si ama Ma c'è che ti arrivano? No Oh, merda Vieno dappertutto C'è uno dietro da qualche parte Conterà Dai, uno lo sciocco, dietro, dio Ah, sono due Eh, vaffanculo Ma quanti di voi siete? Non ci sta arrivando No, no, arriva, arriva Di, 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 di Vai, vai, continua, continua, continua Sto scendendo, dirgli, pingo Sotto, sotto, sotto Non quasi tutto, eh Sto affrontando dove sei tu, esano Che se qua mi ha ucciso lui Bella, vese dei Bella, vese dei Controlla destra No, erano dentro Sono dentro loro Eh, sono già di qua Non ci credo, non ci credo Non ci credo È girando Grande metro Easy bro, stavamo per vincere Preparatemi a sentire tanta merda adesso Ci insulteranno di brutto Almeno penso Allora, ho acquintato tutti Avevo, tipo, nove spettatori Gigi, 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 gigi Gigino, giugino Giggino, giugino Non c'è nessuno Non c'è nessuno Vabbè, fammolo un'altra Dai, madonna Ciao, Matilde L'ultimo team che era andato fuori, il primo team diciamo che è andato fuori i coglioni, uno si chiamava la Madonna e l'altro Padre Pio. Che stile, che cazzo. Per poco, per poco si, è la grippii. Ale, ci sei? Io vedo tutto nero, però ci sono. To nero, to nero. Vediamo se riesco a peccare così. Devo livellare se cazzo è liberato. Sai cosa fa male anche? Il Vargo, fa malissimo. L'ho tirato su da terra e ho fatto i buggy, raga. Eh, ma avevano detto che andava in meta il Vargo. Ma cos'è il Vargo? Eh, è un fucile d'assalto proprio. Ma di che cosa? Che senso di che cosa? Di che gioco? M.V. 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 venite qua dai ce l'abbiamo saldi lo shop dai 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 sul tetto sul tetto uno si è buttato lasciano che bussino lasciano che bussino sono in due all'out già le scale così proprio poi non più altri questi si è pieno qua dai oh no va ma da dove ma fra ma c'è il fantasma veramente questo ha trovato lo specialista fra no way brother crackato quello piriato eh non 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 oh mio dio quanta gente ma porco demonio sono spezzato le gambe mi sono spezzato le gambe mi sono spezzato le gambe me sta in vita 6 secondi 5 4 3 2 1 non dai in gas a p***a per me aspetta 5 secondi c'è dell'ordi che si è matta mia adesso adesso vogliamo starmi il 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 ерьgo c'era un asso un salto non ne ho potete capire io non li uso tieni qua no mi è arrivata una sleppa dal boccione dell'acqua al boccione dell'acqua c'è uno sopra al boccione dell'acqua damperato con un cerchino ok ciao l'ho scato uno alla via per terra niente ah io sono stanco ragazzi 3 ore 30 con cotto il tetto è pieno eh Tyson apri apri gas apri gas mi hai lasciato le munizioni ok basta ho dato io ho dato ho dato ho dato non è la motosega ben entrati? si almeno una che è troppo mi tiene quel contratto a destra guarda che culo guarda che culo guarda che culo facciamo i soldi dell'ondi ah fatelo con uno sciocca dietro eh mi è boscato occhio al tizio madonna raga cade sul tetto? è qua è qua che cade sul tetto è scappato via qua sotto eh ma frai qua vicino dai sotto è sotto quello che mi viene a restare è qui è qui è qui di nuovo qui è qui di nuovo qui devo cracker guarda che guarda che non è guarda che non è guarda che non è venga andiamo tira la tira la stacassamone qua aderla nove persone rimaste siamo in terza sei frega e tre cedio sotto io qua c'è uno sopra io guardate il pin guardate il pin bisogna andare dove c'è l'ho vabbè 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 ok sta arrivando abbiamo soldi per lo vabbè 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 v spero di salire da dietro non è qua gree fingato tra che ce ne ho uno sotto io tutto dagon qua qua si ti ho sotto io qua eh si si intanto vengono da noi dai va dal tunnel questo è il camperone di primo terra uno questo manca solo quello là a destra quando le vado ragazzi in chat la maggior parte di voi ha 100 stelle gratuite se volete potete donarle in questo momento per completare la barra assieme let's go baby eh vabbè 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 grazie per le 100 bello mio gentilissimo grazie Antonio per le 100 easy busy lemon squeezy easy easy for you grande Kevin grazie Michael quante kill abbiamo fatto? non ho neanche visto 13 5 3 1 boiale mandaggia la miseria cioè neanche se mi impegno faccio una kill solo una ragazza come ha fatto secondo voi io quarto cerchio me l'hai rifiutata madonna ragazza vale come cazzo hai fatto a fare solo una kill? eh frate modalità una salita qua schifo va bene ragazzi io vi abbandono è stato bello ci rivediamo domani ciao ragazzi ciao buon proseguimento ciao green venga ragazzuoli è stata bella questa sessione della domenica mi sono divertito mi sono divertito sono stanco cheat 13 kill più win era semplice era semplice era semplice ragazzuoli ci vediamo domani ci rivediamo domani è stato bello buona serata buon proseguimento e niente buon inizio settimana mi raccomando come sempre iniziare bene la settimana in grinta pieni di energie ok e stasera tutti a letto presto ciao hasta luego ragazzuoli 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 Grazie a tutti.